Ciao, buongiorno, siamo in Florence, siamo in Lungarno Cellini 39, sono Roberto e presento a voi il mio workshop dove mio frate Rodolfo, Romano e Sabina lavorano insieme a formare l'arte contemporanea La nostra idea è di spendere il giorno, giorno dopo giorno e dopo giorno, divertire lavorare in arte Abbiamo studiato il pasto, abbiamo studiato la vecchia tecnica, abbiamo studiato la migliora arte, la migliora mestre che abbiamo in Florence da circa 1000 anni Siamo molto orgogliosi di questo lavoro perché è molto diverso da quello che abbiamo fatto prima È un twist contemporaneo sul primo fresco landscape di Florence Abbiamo studiato l'arte contemporanea Abbiamo studiato la pittura e la scuola in fresco tecnica La pittura e la scuola in diversi materiali Abbiamo visto l'escrizione delle scuole di inizio a inizio che Roberto e Rodolfo stavano insieme È un pezzo sulle stagioni diverse di vita di un'arte più grande E' una storia di un'arte di materiale per raccontare questa storia L'arte è un modo per trovare la bellezza E un modo per trovare il grande personale È vero Abbiamo conosciuto amici Grazie a tutti.